e allora ragazzi ci siamo benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere le modifiche guardate intanto che bello sfondo che c'ho qua è favoloso albafica mi sta piacendo veramente tanto oggi andiamo a vedere le modifiche che hanno fatto al personaggio perché è stato ritoccato ben due volte quindi ancora lo stanno testando per vedere adesso se funziona con queste nuove modifiche non è che non funzionava prima come vi dicevo io già lo davo per un personaggio molto forte molto valido buono per tutti tutti i tipi di account quindi un pg che per me già era da pullare lo hanno potenziato ancora di più evidentemente ci tengono parecchio a questo personaggio non so se perché il primo di della serie lost canvas ma andiamo a vedere subito le modifiche e io ho ritradotto quindi per farvi vedere le differenze ho lasciato le parti di prima in rosso le parti in verde sono quelle nuove così possiamo abbiamo la differenza proprio infatti per farvi capire come come l'ho scritta dovrebbe essere semplice da capire il base modificato il base attacca tutti i nemici causando il 40 per cento di danni fisici quindi prima era 50 la parte in rosso adesso è 40 quindi teoricamente sembra depotenziato in realtà non è così adesso andiamo a vedere quindi 40 per cento di danni fisici e 60 per cento di probabilità di aggiungere la stack della rosa velenosa hanno alzato tantissimo la percentuale di probabilità di applicare la stack quindi già questa è tantissimo da 40 al 60 per cento quindi possiamo vedere proprio la la fila delle probabilità di aggiungere la stack che come sono aumentate questo non solo rende il personaggio già più forte più efficace ma ci permetterà uno skillaggio leggermente più basso andando a risparmiare perché se prima per esempio doveva essere portata a livello 4 per avere l'85 per cento di probabilità di aggiungere una stack a livello 4 quindi non avevamo la certezza ma se volevamo spagnare qualche tomo risparmiare e scusate sicilia se volevamo risparmiare qualche qualche tomino e comunque non era al 100 per cento mentre adesso a livello 3 abbiamo il 100 per cento quindi passiamo dal 70 al 100 per cento di probabilità di aggiungere una stack quindi questo ovviamente ci permette che al livello giusto del personaggio già un livello 3 abbiamo la certezza di applicare le rose ma attenzione che arriva uno dei suoi due delle sue due modifiche più forti quindi sono tre modifiche in tutto aumenta permanentemente l'attacco del 20 per cento fino a un massimo del 200 ogni volta che lui andrà a skillare anzi no a skillare a sparare il base perché ha solo questo va aumentando e va incrementando gradualmente il suo attacco questa cosa va a accontentare quelle persone che non erano soddisfatte del suo attacco ma era soltanto un support quindi lui andava a uccidere le persone col bleed quindi comunque l'attacco lo faceva però sotto forma di bleed quindi dovevamo aspettare si accumulava il bleed e poi faceva tanto danno adesso questo buff porta due situazioni uno adesso il base fa male adesso possiamo dare un doppio attacco con più senso perché non ci interessa soltanto per aumentare incrementare le stack di veleno ma ci interessa perché andando a skillare aumenta di danno nella partita che adesso vi porto in un pvp che adesso vi porto lui è passato ad avere a tipo turno 1 turno 2 un più 3000-3005 di attacco poi è passato a più 7000-7005 una cosa del genere arrivando tipo al turno 5 con più 10.000 di attacco questo ci comporta intanto una notevole aumento dell'attacco ma adesso possiamo anche nei cosmi cercare forse meno attacco fisico perché noi alzavamo l'attacco fisico non perché lui facesse danno ma perché poi più alto l'attacco più faceva male col bleed ma se adesso lui automaticamente si alza l'attacco base non ci interessa più di tanto ammazzarci per andare ad alzare il p-attack con i cosmi quindi probabilmente, infatti adesso vedrete i danni devastanti che farà senza cosmi nel sacred possiamo utilizzare i cosmi per andare ad alzare invece le resistenze possiamo mettere i cosmi un po' meno di attacco e più full tank praticamente e cosmo centrale ovviamente, quello poi ne parliamo quindi già il base sarebbe tantissima roba come modifica bastava questo e già il personaggio era forte ma non si sono fermati qua andiamo alla seconda, il Crimson Thorn come era prima il Crimson Thorn? quando il nemico arrivava a 5 stack di rosa magica velenosa dopo il successivo round di azione c'era la probabilità del 20% di essere convertite quelle stack in 5 stack di sanguinamento quindi si cancellavano le 5 stack di depotenziamento e diventavano bleed qualcuno giustamente diceva ok però in quel caso, in quel momento, quel personaggio non è più depotenziato quindi c'erano dei momenti della partita in cui il personaggio toglieva tutte le stack di depotenziamento e per 1-2 turni ripartiva da 0, si faceva male ma era meno depotenziato intanto notiamo che hanno anche qui alzato tantissimo le percentuali di conversione quindi anche qui possiamo già farlo funzionare con una skill un pochino più bassa perché mentre prima al livello 3 era un 60% adesso al livello 3 è un 80% già un 80% è qualcosa di decente al livello 4 abbiamo già la certezza di diventare, di trasformare le stack come se non bastasse questo notevole incremento di percentuali abbiamo anche una piccola scritta in verde che cambia tantissimo tutta la situazione dello scontro vediamo queste due scritte in verde che sono al quarto e al quinto livello dal livello 4 quando trasformerà tutte le stack in bleed non spariranno tutte ma ne lascerà una e questa già è tantissima roba perché come vi faccio vedere quanto le percentuali facciano cioè quanto sia di percentuale una stack di rosa magica velenosa come vediamo qui in fondo ogni strato, quindi ogni stack riduce il danno del 5% e la guarigione del 20% questo significa che il nemico ormai non sarà mai totalmente libero dal suo depotenziamento ma avrà di base, minimo, fisso, dall'inizio del turno un depotenziamento del 5% dell'output del danno quindi farà meno male del 5% e le guarigioni saranno perennemente bloccate del 20% minimo, ok ci siamo minimo cioè lui entra in campo e già c'è un depotenziamento e questo depotenziamento non se ne va più di una stack se noi abbiamo la skill almeno al 4 a livello 5 abbiamo una base di due stack fisse perché anche quando le andiamo a trasformare in bleed due resteranno due stack significa 10% di output di danno ridotto e 40% di HP bestiale non so, veramente fortissimo la terza skill non l'hanno toccata è rimasta uguale quindi questa non verrà modificata nei nostri ragionamenti di skillaggio la quarta skill non è stata baffata non è stata modificata ma è stata scritta bene perché prima, nella skill precedente non avevano specificato quanto lui recuperasse di HP dopo la sua prima morte c'era scritto anzi sbagliata io l'ho detto nel primo video che non funzionava in quel modo che l'avevo provato e non era vero quindi c'era qualche percentuale nascosta l'hanno scritta perché effettivamente non era in quel modo c'era scritto che quando lui moriva annullava tutte le stack di rosa magica velenosa che c'erano in quel momento e lui avrebbe recuperato HP in base all'ultimo colpo che aveva fatto con il bloody rose quindi se lui moriva sparava un bloody rose di 200k si sarebbe dovuto curare 200k di HP ovviamente escluso l'eccesso in realtà no perché quando io lo andavo a provare facevo 100k di danni e mi curavo 20 o facevo 70 e mi curavo 15 insomma lui si curava sempre molto meno quindi non funzionava l'hanno scritto finalmente bene come funziona l'ealing cioè il recupero di HP dopo che muore fa sempre il suo contraattacco usa tutte le stack che ci sono di rosa magica velenosa è sicura adesso a livello 1 di un 20% di HP parliamo dei suoi HP massimi 20% di HP base fisso anche se non ci sono rose in quel momento 20% fisso più 6% per ogni stack quindi già a livello 1 si cura abbastanza discretamente soprattutto se dall'altro lato abbiamo il campo pieno di stack magari ne hanno 5 l'1 lui si cura 6 per 5 per 6 non faccio il conto perché sono scarso ma è assai quindi questa è una skill che non ci interessa anche come prima portarla al massimo perché comunque secondo me già a livelli abbastanza bassi funziona perché 60% di attacco fisico con l'attacco che c'è aumentato nel frattempo con l'attacco che c'è aumentato quindi fa più male di prima a maggior ragione rispetto a prima questa cosa non ci avevo riflettuto a maggior ragione adesso questa skill è buffata indirettamente grazie alla prima che gli alza l'attacco fisico ok quindi veramente tanta tanta roba andiamo a vedere questo piccolo replay che vi porto e andiamo a vedere cosa cosa cambia rispetto al prima vado mettendo io pausa nei momenti per farvi vedere danni e percentuali se no vi sfuggono magari possono sfuggire e allora in questa partita sto usando invece di di Krishna che usava al posto di Luna adesso uso Luna perché mi interessa adesso fare skillare tante volte albafica quindi già una piccola differenza perché si è vero che i personaggi muovendo si aumentano le stack di rosa magica velenosa ma adesso lui si alza le percentuali di danno e a me interessa farle alzare perché più le alzo come vi dicevo più farà danno il bleed è l'eventuale rosa finale quella quando schiatta ma in questa partita purtroppo non schiatterà schiatterà male l'avversario che mi porta un team tutto sommato decente con albafica con Artemide a Lecure a Orfeo Atena quindi è un ottimo team io ho un team un po' azizzato come al solito allora all'inizio è uguale fino a quando non tocca albafica tutto invariato perché partono con una stack di rosa magica velenosa e una aumenta quando loro agiscono quindi all'inizio tutto invariato inizieranno a cambiare le cose da quando albafica schillerà la cosa che mi piace di questo personaggio è che anche se viene controllato comunque i personaggi si indeboliscono da soli io gli sto provando adesso gli ho cambiato il cosmo gli sto provando l'elfo del sangue così per aumentare ancora di più e farlo pg molto debuffante ecco vediamo il suo base che inizia a fare tra i 4 e i 5k quindi lo vedremo salire guardate adesso appena tocca Milo come muore malissimo perché lui facendo tante azioni diventa per l'ennesima volta un suo grande limite il fatto di fare tante azioni con specialmente orfeo in campo e albafica è fregato perché ogni azione si becca il danno di orfeo e aumenta una stack di rosa magica velenosa e si trasformerà quindi successivamente in bleed quindi per ora è a 4 indebolimento 5 appena agisce di nuovo abbiamo già la prima differenza con il buff di albafica si è trasformato in 5 stack di bleed ma ne sono rimaste come vi dicevo 2 di rosa magica velenosa lui resterà perennemente depotenziato come ogni personaggio quindi non è libero da questo depotenziamento tra l'altro voglio farvi vedere se è fatto forse già il danno del primo bleed 73k si vede vediamo se riesco a bloccarlo ah non ci riesco vabbè 73k ragazzi di bleed al turno 1 73k lasciamo questo valore anche perché albafica è ancora ha avuto soltanto 2 depotenziamenti perché cioè 2 potenziamenti perché ha skillato solo 2 volte siamo a inizio turno qua vabbè Milo già è morto malissimo 3 volte di fila allora i nemici ancora sono depotenziati 4-5 stack di rosa magica velenosa nel frattempo viene a trovare micetta saluta sposta stiamo lavorando che ti pare e allora abbiamo un thanatos indebolito con 5 stack 5 bleed e 2 stack rimaste adesso adesso praticamente iniziano a morire tutti malissimo per il bleed vediamo se riesco a beccare allora io qua ho lasciato Jun di proposito senza mettere la corda mi pare esatto ho dato la frustata così non avrebbe portato il danno a tutti gli altri quindi è da sola senza difese davanti a un occhio di thanatos indebolito con 5 stack e mi resiste al limite Misha per favore spostati da qui allora mi resiste all'occhio di thanatos nel frattempo qua albafica era arrivato tipo a 7000 8000 se non di più di di piatta attacca aggiuntivo qua tra poco scoppiano tutti per il bleed ah si è disintegrato thanatos a metà vita io se riesco a beccarlo 97k di danno di sanguinamento ragazzi cioè voi immaginate questo personaggio con 5 stack di bleed continua a tutti mettiamogli accanto un doco che fa scoppiare quindi le stack di bleed si attiva la lancia e abbiamo praticamente un problema futuro per chi se lo trova contro qua si è presa 78k e Artemide vabbè avete capito giusto io se riesco 78k Artemide 81k si è presa chi è Ophiucco quello e niente e Ophiucco perennemente depotenziato con le cure almeno due stack in su 40% quindi minimo di depotenziamento direi che il personaggio c'è non so se allora andiamo qua allora i danni non so se funzionano bene perché in una partita precedente che fu prima di essere buffato mi aveva fatto molto di più però i danni li abbiamo visti forse forse perché faceva molto più danno rispetto agli HP dei nemici erano tutti a metà vita gli facevo 90k e forse non me li contava tutti quindi c'è una parte in eccesso che non mi conta per le morti dei sì sarà per questo perché se se lui si fosse curato perennemente e io avessi applicato il bleed questo danno è un pochettino leggermente falsato dalle morti premature ecco perché non ha resistito molto perché con Orfeo e con Albafica le loro cure si sono drasticamente dimezzate anche quindi non ci ha nemmeno provato a un certo punto a curare con con Ofiuco allora concludiamo personaggio bellissimo riuscito non so se forse è un pelino troppo forte non so se è un po' troppo eccessivo obbligatorio secondo me da prendere per tutti account grossi ovviamente sarà un personagione molto utilizzato si può buttare sempre ovunque ah le skill non ne ho fatto vedere le skill ho il nuovo ok perfetto ho riscritto le skill le ho adattato un po' meglio ho aggiunto la balena perché secondo me la balena ok tutto 5-5-5 però il 4 la skill 1 secondo me non serve portarla a 5 perché comunque da 4 a 5 abbiamo sempre il 100% di probabilità praticamente andiamo a usare 4 tomi per un 5% in più di danno fisico ok se uno compra i tomi e ne ha tipo 80 in cantina lo vuole fare va bene ma secondo me è quel punto eccessivo che non serve uno skillaggio minimo minimo 1-4-4-1 non so se funzionerà ma secondo me se qualcuno ha propri tomi ha solo 12 tomi può provare a farlo funzionare perché comunque il danno fisico lo fa e gli alza automaticamente del 20% ogni volta che skilla il 60% di probabilità di aggiungere una stacca a livello 1 non fa schifo visto che lui comunque colpisce non ho messo il pvp visto che lui comunque colpisce tutti quindi qualche rosa la va ammettendo insomma con questo concetto però per me io partirei dal giusto secondo me il personaggio è 3-5-5-3 se non ho i tomi se non ho 26 ne ho 22 lo parto col medio ma dopo lo devo fare giusto quindi lo devo fare è un personaggio che vale e merita è 3-5-5-3 se qualcuno vuole sparagnare proprio quel tomino forse l'unica skill dove può andare a tirare qualcosa è la quarta con il suo contraattacco finale tanto anche lasciando la 1 col 20% di attacco fisico per ogni stack e il 20% di hp più 6 probabilmente si ricura pure abbastanza e poi voi avete un healer e lo curate quindi questa è l'unica skill dove se volete risparmiare lasciate a 1 questa ok e niente questo per albafica è tutto se dovessero esserci ulteriori modifiche o aggiornamenti però non penso perché già l'hanno modificato due volte c'è l'intenzione di fare un pg forte è chiaro l'hanno alzato due volte la prima avevano alzato dei valori un po' di più la seconda l'hanno aggiustati perché prima si alzava del 25 ogni volta che skillava l'hanno alzato a 20 l'hanno abbassato a 20 che è già buono secondo me abbiamo trovato l'equilibrio è un personaggio semplicemente gravissimo ci vediamo alla prossima spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere voi che ne pensate di albafica e se pensate se lo pullerete o no sono curioso fatemi sapere qua sotto se lo pullerete ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao